Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Imprunita e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per il ripristino di un incidente, due chilometri di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna e due chilometri di coda in direzione mare tra Scandice e Ginestra Fiorentina. In direzione mare ci sono anche code in uscita a Lastra Assigna per viabilità esterna che non riceve e rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ponte della Est e Ponte della Ovest Ponsacco. Sul raccordo Siena-Firenze ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Badesse e Monterigioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!